Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Piepoli sulle intenzioni di voto politiche nazionali di oggi, venerdì 29 aprile 2022. Il primo partito è Fratelli d'Italia con il 21,5%, segue il PD con il 21%, la Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto ed è al 16,5%, il Movimento 5 Stelle al 13%, Forza Italia perde mezzo punto ed è al 7,5%, Azione al 3%, Italia Viva al 3%, più Europa al 2% cresce di mezzo punto. Sinistra italiana al 2%, Italexit di paragone al 2%, Europa Verde al 2%, Articolo 1 guadagna lo 0,5% ed è al 2%, tutti gli altri partiti messi insieme hanno il 4,5%. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.